allora salve ragazzi oggi vi parlo della ginao 90 19 9 0 19 lo rifaccio per la seconda volta perché alle precedenti impressioni di scrittura di le mie di riccardo affinati quelle di stilorze di my favorite pen si sono aggiunte altre due recensioni una che è quella di gargaros e l'altra che è quella di scrittura e dintorni a 5 poi arriveremo anche a 6 perché prossimamente aggiungeremo per la quindi terzo video anche quelle del maestro ernesto casciato quindi io credo che raramente youtuber italiani si sono riuniti in sei per parlare di una stilografica che devo dire scrive bene vedrete che nella mia impressione di scrittura avrò dei problemi limitati dovuti più a questione di inchiostro ma con le nuove diciamo con le nuove tipologie inserimenti io posso dire di aver risolto totalmente il problema iniziale e nel prossimo video insieme a ernesto casciato troverete anche un ulteriore inserimento dove faremo dei confronti e delle situazioni particolari che sicuramente ci possono aiutare nella comprensione totale chiaramente questo significa due ore di filmato solo i matti e gli appassionati hanno coraggio vedetevelo chiaramente con molta intelligenza quindi un po per volta saltando fatene quello che volete ma è veramente qualcosa di unico eccoci qua allora pacchettino in apertura dall'olanda e vediamo un po di che si tratta anche se in realtà dovrebbe venire dalla cina che poi sbuga in olanda eccolo qui infatti tutto tutto cinese ginao il brand il numero 90 19 e il codice e medicina va bene almeno sono onesti spesso no troviamo anche case occidentali che dicono allora pacchettino di plastica trasparente diverso dal solito secondo me stanno entrando in un mondo in un mondo vedo anche un po di inglese arabo c'è un po di tutto la ginao incomincia a porsi del dei limiti differenti allora bigliettino di istruzione piccola guida proprio così tanto per come tenerla come caricare vabbè solite cose anche se è giusto farvi vedere tutto è molto generale non è che riguarda questo vedo anche istruzioni per penne dice non tenetela sotto sopra mantenetela sempre come caricare vabbè andiamo vabbè si è parlato molto di questa stilografica e posso dire che si continuerà a parlare anche tanto si è parlato tanto sui vari canali c'è italiani che esteri questa volta gli youtuber italiani sono stati tra i primi mega penna che non non copia la montblanc 149 non copia non si ispira manco alla ginao x 159 ma va direttamente a copiare diciamo proprio anche come vedete proprio nella misura va a copiare direttamente una pilot temperor che diciamo è il non plus ultra della delle stilografiche giapponesi quindi come dimensione è una big pen a tutti gli effetti come pennino è un pennino numero 8 e addirittura interessante per la prima volta la ginao per lo meno non è che sia la prima volta ma per lo meno ultimamente un mega converter un mega converter eccolo qua addirittura vedete anche in metallo la il pirulino ma interessante è che per la prima volta ma tu tutte queste cose come le sai l'ha aperta adesso tutte queste cose le so perché io vado a vedere stilorso alla siccome lui l'ha presentata si vedete si svita quindi non si estrae attenzione quando la tirano la dovete tirare perché proprio da avvitare da avvitare con una circonferenza che mi mette un po paura perché poi tutte le prove le andremo a fare cioè questo converter è possibile applicarlo anche su altri converter ginao simili ecco andremo a capirlo pure questo e questo si può applicare per esempio alla ginao x 159 è molto grande ho dei dubbi ho dei dubbi come se veramente per questo modello avessero voluto studiare proprio una capacità una volta anche addirittura nel 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 pennino che hanno utilizzato ho visto addirittura montagli dei pennini flessibili ora vedremo andremo poi a provare sfrutteremo anche le prove di altri amici youtuber italiani chiaramente anche se vi devo segnalare che vincenzo il nostro amico vincenzo idolo americano sul suo canale americano lo ha lo ha chiaramente l'ha già recensita e ne è entusiasta addirittura ha detto che è la prima stilografica dell'anno novità dell'anno lui ho l'impressione che lui non dice ma perché non ti compri una un amperero perché costano l'amperero costa migliaia di euro non mi ricordo se 3 mila qua arriva in alcuni modelli urushi ma chi arriva a toccare anche i 4 mila insomma rotti poi andiamo a vedere pure i prezzi però tu con meno di 20 euro 12 euro hai perlomeno una una un'impressione sulle dice me la volevo comprare come una stilografica da portare in giro perché giustamente no dicevo la mia 149 la porti in giro giusto 400 euro magari la riesce a trovare 350 anche usate no eccetera eccetera anche 600 700 quello che ti pare ma una da 4 mila euro io per i quartieri dove ogni tanto mi capita di passare insomma avrei avrei dei dubbi però insomma andiamola a vedere dai andiamola a vedere carichiamola e andiamola a vedere nel dettaglio allora eccola qua la nostra ginaono 90 19 90 19 qualcosa ho accennato però prima di dire la mia e a questo punto meriterebbe anche un uno scimmiometro lo faremo faremo lo scimmiometro visto che vincenzo di puntampen therapy ne è rimasto folgorato mi sembra anche io però prima di dare diciamo ascolto a vincenzo questo italo americano e prima di fare lo scimmiometro e vi spiegherò il motivo io andrei a sentire cosa ci ha detto stilorso io vi dico sempre andate a vedere il canale ci sono tante cose però prima di dire la mia voglio sentire stilorso poi inizierò a provare questa stilografica che comunque appena inchiostata non mi ha dato un'eccellenza esclusivamente io penso perché noi tendenzialmente quando andiamo a usare facciamo un errore di base che è quello di quando andiamo a provare le nostre stilografiche cinesi sapendo vengono nella scena noi le dotiamo di inchiostri economici come a dire una penna economica quindi gli monto ti pare che mi vada a sprecare un pilot un pilot a hiroshizuku asagao dice no io vado su un diamine da 4 euro 3 euro e 90 su cose molto economiche cioè invece questo è un errore noi dovremmo provare queste penne con inchiostri non dico di una certa consistenza non che costino tanto ma inchiostri particolari allora io in realtà non ho voluto usare proprio un inchiostro come ti posso dire economico ho usato il k w z sogno di varsavia sulla vistola lì dream vabbè un inchiostro che il buon marco chiari me ne aveva parlato però io questo inchiostro sicuramente un odore eccezionale ma poi non è che l'odore ci andiamo a contrapporre ma io qualche piccolo problema col k w z e in particolare comunque ogni tanto lo noto a io che ne so sarà destino quindi prima di provarla voglio provare anche con altri inchiostri per vedere qual è il suo migliore abbinamento e una volta scaricata proverò anche il come si dice quello della sailor attenzione come dice la nostra ornella di stile stile a non mischiare inchiostri minerali con inchiostri vegetali perché sennò boom scoppia la bomba chimico gastronomica no ma chimica sì però insomma ogni tanto no una parola tira l'altra dai non vi voglio accusare più di tanto andiamoci conoscete anche come si dice i messaggi subliminali ci che hai detto lasciamo perdere compariranno nel futuro ce ne avremo sempre di più ricordate l'ironia non ve la perdete mai io le battute le faccio sempre in maniera seria quindi non mi vedrete ridere cercate di capire però quando scherzo anche nei messaggi che quando invece faccio sul serio pochissimo raramente insomma allora stil orso l'andiamo a vedere stil orso che cosa dice stil orso di questa ginao nine zero nine t ben ritrovati cari amici da stil orso spero abbiate passato delle belle vacanze e oggi vi voglio mostrare una novità sì una novità lo sapete il canale di solito non sto molto sul pezzo le penne le recensisco dopo averle provate dopo averle recensite non è un canale da ultime novità però questa volta vi presento non dico niente prima e non mi interessa se sia niente prima o meno vi presento la nuova arrivata di casa ginao la 90 19 90 19 da dao series questa volta ho scelto una versione trasparente perché le x 159 che montano lo stesso pennino di questa 90 19 le ho invece in resina non trasparente bene la penna è di veramente grandi grandi dimensioni potete vedere vicino la resina trasparente blu in questa clip ginao a chi si ispira questa 90 19 si ispira vagamente più o meno vagamente diciamo così alla namichi emperor che è un po uno dei flagship di casa andiamo subito ad aprirla e daremo un po vedere il pennino che è il pennino numero 8 montato anche sulla ginao x 159 eccolo qua ginao x 159 quindi entrambi rimovibili a vite però questo non vuole essere un video di paragone della 90 19 con la x 159 ma raccontarvi questa penna perché l'ho presa innanzitutto perché mi piacciono le penne grandi e questa è veramente veramente grande cicciottosa senza cappuccio vedete fate com'è grande e con il cappuccio calzato diventa quasi un oggetto contundente diciamolo così si può usare col cappuccio calzato ma adesso andiamo a vedere adesso non chiostreremo ci andremo a scrivere ma col cappuccio calzato mi sembra veramente veramente grande poi una cosa che mi ha incuriosito è che ginao per questo modello la 90 19 ha progettato un converter nuovo nuovo di zecca mai visto su nessun'altra ginao prima d'ora addirittura addirittura perché questo ginao questo converter ginao è un converter udite udite a vite con addirittura la filettatura nemmeno sul fondo ma un po a metà questa è una cosa veramente nuova per ginao e cosa ancora più interessante questo converter è un converter dalla capacità veramente importante si parla di 2 2,2 millilitri di inchiostro quindi un'autonomia incredibile adesso andiamo a riavvitarlo e devo dire che si avvita bene e scorre veramente bene sicuramente un passo avanti rispetto ai soliti converter ginao che abbiamo visto su tante altre penne compresa la x 159 ma adesso è il momento di andare ad inchiostarla prima di chiostarla però vi vorrei far vedere il dettaglio di questa veretta con scritto ginao numero 90 19 che devo dire per carità non credito al miracolo è si tratta di una veretta semplicissima però c'è una maggiore cura rispetto al passato ho caricato la ginao 90 19 con questo bellissimo inchiostro della graf phone faber caster midnight blue che mi è stato regalato da davide che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta sei stato gentilissimo un bellissimo inchiostro andiamo un po a vedere come scrive questa ginao 90 19 pennino m devo dire che è molto scorrevole il flusso è veramente generoso adeguato l'inchiostro con ricordo graf phone faber caster midnight blue sono sincero le prime impressioni su questa penna sono veramente veramente ottimi la continuità di tratto c'è la flessibilità ma non certo certo se premiamo un po un po di differenza si vede ma non è certo per questo motivo che si compra che si comprano 90 19 il reverse no il reverse non va diventa un extra extra fine davvero attrito di scrittura molto basso molto molto basso è veramente un piacere scrivere con questo pennino voglio però andare a provarla anche su carta claire fontaine eccola qua un piccolo blocchetto di carta claire fontaine a 6 qui ovviamente il tratto diventa più contenuto perché la carta è di maggiore qualità ginao 90 19 tratto medio e dire ragazzi sono buoni benini questi sono buoni benini c'è poco da dire non sono certamente i migliori pennini che si possono trovare sul mercato per carità però ricordiamoci che stiamo parlando di una penna cinese di grandi dimensioni grandissime dimensioni che costa 11 12 massimo 15 euro a seconda di dove l'ho acquistata con un converter nuovo dalla grande capacità penso a questo punto uno dei più grossi converter per capacità sul mercato e quindi che dire vedremo vedremo se nel tempo questa penna resisterà se le plastiche si andranno a rompere se sarà come la 992 o seppure sarà una penna in definitiva valida come la x 159 l'impressione ne venderanno ne venderanno tantissime ora come ho detto questa è la prima impressione quindi non faremo pro e contro perché va valutata meglio però guardate posso dire la penna è di ottimo ottimo impatto la faccio vedere vicino un'altra penna che non è certo piccola come la diplomat aero si tratta di una penna decisamente più grande anche della diplomat aero che non è certo una penna piccola oppure cosa potrei farvi vedere un'altra penna magari di grandi dimensioni che ne so una franklin christoph 31 e 45 eccola questa è più lunga la franklin christoph 45 ma non così grande di diametro quindi non una penna per chi ama le penne slimline tipo parker 25 tipo ginao 35 siamo veramente agli antipodi però ragazzi questi pennini numero 8 che casa ginao sta sfornando ok non saranno però scrivono bene e l'impressione è che il controllo di qualità sembra davvero migliorato migliorato in maniera sostanziale perché questa penna è già la terza di questa con questi pennini di nuova generazione numero 8 che ho e tutti e tre scrivono bene dall'extrafine al fine questo è un m volevo provare l m proprio perché avevo già le fr e devo dirvi che anche su carta claire fontaine le impressioni le prime impressioni sono veramente buone quindi ci riserveremo mi riserverò di recensirla in maniera più approfondita tra qualche tempo vedremo la durata delle plastiche ma le prime impressioni di scrittura sono ottime sono ottime sapete io non consiglierei la una penna cinese l'ho detto tante volte a un neofita perché meglio andare sul sicuro però ragazzi queste nuove ginao sono sicuramente molto molto superiore alle varie 9 9 9 2 queste pennette che facevano un tempo davvero cip bene da parte mia spero di non avervi annoiato con questa prima impressioni sulla ginao 90 19 amiche emperor lookalike vi invito a iscrivervi al canale mettermi un mi piace soprattutto ditemi che ne pensate di questa nuova gigantesca penna di casa di casa ginao un abbraccio e alla prossima da stilorso abbiamo visto quello che pensa stilorso bene ci ha detto anche delle cose importanti però come al solito io non non mi non mi piego non mi accontento e quindi ho chiesto a un altro amico dico senti mi puoi prestare un po del tuo materiale su che cosa sulla ginao 9 0 19 90 19 e quindi ho chiesto a mai favori puntam pen a mai si favori pen dico mi puoi dire anche la tua e lui è stato così gentile ho detto sì sì non ti preoccupare quindi sentiamo anche un altro parere non ha importanza diciamo chi ce la racconta meglio chi ce la racconta peggio l'importante è avere testimonianze di questa new ginao 90 19 denominata anche da dao il nome viene cinese viene da non è la prima volta ma da un'arma bianca una sorta di spadona a una mano e mezzo una mano e mezzo perché erano spade sci una sorta di finisce come una scimitarra ma realtà è molto più pesante di una scimitarra araba era un'arma utilizzata in quello che ai nostri tempi era il medioevo lì era una dinastia suang per cui 1200 e qualcosa ancora oggi si vedono questi spadoni a due mani a una mano e mezzo perché a una mano e mezzo perché erano spade che in teoria potevano essere usate anche con una mano o con due mani in teoria perché comunque poi la lama in acciaio quindi bella grande pesante quindi può alla fine se le milizie non erano addestrate sicuramente la usavano a due mani era un'arma da impatto perché spesso si fassi anche vi ricordate i pennini in a ginata che i cinesi hanno copiato ai giapponesi la ginata era è un'arma giapponese a tutti gli effetti utilizzata dagli ashigaru quindi data alle milizie anche il dadao è un'arma data alle milizie non era un'arma da da guerriero perché qualcuna di questa nelle mani giuste gli uomini più robusti anche se non addestrati comunque un primo impatto l'avrebbero avuto a corta distanza chiaramente a corta distanza perché già con le lance un muro di lance avrebbero avuto problemi arrivare a contatto prima di essere perforati ciò si fa tutto un discorso storico militare a noi ci interessa solo perché hanno dato sto nome ma perché spesso i cinesi lo fanno associano l'acciaio col filo di armi bianche armi bianche che ancora oggi li vediamo nei film li vedevamo nei film di kung fu ricordatevi box era l'assedio a pechino bellissimo con david niven un film internazionale charles heston no 50 giorni a pechino un film veramente molto bello d'avventura c'erano ogni tanto comparivano di sti spadoni ecco tendenzialmente l'associazione poi pennino uguale arma bianca tendenzialmente solamente una questione psicologica ognuno dire alla sua come giusto che sia e va bene così allora mai favori pen andatevi a vedere i suoi filmati anche i suoi video nel suo canale perché sono altrettanto interessanti un altro canale con cui abbiamo sempre collaborato e lavorato e speriamo di poter più che lavorato direi divertito ecco che che prossimamente possiamo fare anche degli altri video magari anche insieme a stilorso lo coinvolgiamo devo un po studiare come poter fare perché alcuni di noi mettono il viso per non compagnire con la faccia io non lo so un alias qualcosa una voce fuori campo insomma qualcosa ci dobbiamo inventare se no mi piace allargare il più possibile va bene allora ginao my favorite pen il canale veramente bravi tutti andiamo lì a vedere e poi dirò la mia su sta con questo scimmiometro va bene salve a tutte e a tutti oggi voglio vedere insieme a voi una penna che ho appena ricevuto dalla dalla cine si tratta dell'ultima ginao messa sul sul mercato ovvero la ginao 90 19 a casa vi arriva in questa specie di foderino di non so che materiale si tratta comunque uguale a all'imballatore che viene utilizzato per la 159 le dimensioni sono molto molto importanti ed anche peso non è proprio dei più leggeri e ricorda molto appunto la ginao 159 con con le dimensioni è una penna molto importante non ho portata di mano la 159 per confrontarla però magari possiamo fare un video proprio per confrontare queste due penne è tutta in resina ed è disponibile in diverse colorazioni io ho scelto la più classica quella in resina nera ci sono alcune anche alcune resine trasparenti ricorda davvero molto la 159 a differenza della della clip che ricorda le clip della di qualche pilot ma anche qualche aurora se ricordo bene sulla clip ci sta l'incisione ginao invece su questa veretta c'è ginao poi ci sta una scritta da da dao non so a cosa si riferisca se è una collaborazione se una dedica non lo so e poi ci sta ginao numero 90 19 che questo numero 90 19 sembra più la numerazione di scusate di una più un'edizione numerata e quindi la numerazione incisa sulla veretta però non è così perché 90 19 è il numero del modello non la non una numerazione per l'edizione numerata come vi dicevo il peso è abbastanza importante il cappuccio ha un contro cappuccio interno che va a a proteggere la punta del pennino quindi non farla essiccare subito il pennino è un classico pennino ginao con il simbolo ginao impresso sopra inciso sopra gradazione extra fine come quasi tutte le penne che acquisto e il pennino è un ginao numero 8 come quello della 159 alimentatore in plastica sezione di scrittura molto importante quindi vedete quanto è grande la penna ma la cosa più interessante non sta qui ma nel nel converter ci sta anche non so se si riesce a vedere un uno ring che va non so se ecco adesso dovrebbe vedersi qui sotto la filettatura del bustolotto che collega la sezione di scrittura al busto ci sta uno ring che quando viene serrato riesce a dare più a conferire morbidezza al serraggio e quindi ci da anche una sicurezza maggiore scusate se parlo piano ma sono un po raffreddato e non riesco a parlare più più forte nella sezione di scrittura la sezione di scrittura si avvita al busto tramite una filettatura metallica sulla sezione di scrittura e e come vi dicevo la cosa più interessante di questa di questa penna è l'alimentatore è il converter prima cosa hanno ha portato delle migliorie ai converter della ginao perché non vengono più solo intestati ma vengono avvitati tramite una filettatura come già fanno altre penne però poi guardate la dimensione del del converter la capacità di questo converter è veramente impressionante adesso lo paragoniamo al converter di una ginao 80 anche questo è quasi quasi scarico vedete la differenza tra un converter classico e mi sono sporcato di nuovo tra un converter classico e un converter della 150 della 90 19 vedete quanto è più più grande l'altezza è la stessa ma guardate la sezione è impressionante la dimensione di di questo converter e quindi anche la la capacità di inchiostro che ha questo questo converter quindi una volta caricata questa penna dovreste stare bene per parecchio tempo prima di esaurire inchiostro ho combinato un macchiello prima di andare avanti con la recensione puliamo un po' allora montiamo la penna e passiamo alla prova di scrittura di questa penna come vi dicevo a dimensioni davvero importanti però anche se non sono queste le penne che preferisco volevo provare questa questa ginao non sono andato a leggere il numero che l'avevo dimenticato 90 2019 sono andato a leggere un numero che l'avevo dimenticato 90 19 l'ingiostro è caricata con un diamai non ricordo qua lo vediamo quale l'ingiostro è utilizzato facciamo una prova di condività di flusso vedete scrive bene forse ogni tanto gratta un po' però ci sono stati alcuni piccoli salti di tratto vedete questa è leggermente più meno marcata da qui a qui anche però tutto sommato la penna scrive si scrive scrive bene il pendino come vi dicevo è anche abbastanza importante vediamo se ha ecco vedete c'è anche una piccola variazione di tratto se faccio un po' di pressione sul pendino però applicando un po' di pressione il pendino gratta in conclusione cosa posso dire è una penna importante da portare dietro perché non è comodissima non è leggerissima il peso si sente tutto di questa penna in mano quindi non so per lunghe sessioni di scrittura come si comporta probabilmente stancherà utilizzare questa questa penna per lunghe sessioni di scrittura ed è anche abbastanza incomprante da tenere nel taschino però gli amanti delle penne importanti sicuramente la apprezzeranno più di quanto la sto apprezzando io perché non è il genere di penne che mi piace portare dietro però questi come vi dico spesso sono semplicemente dei gusti personali che variano da persona a persona io preferisco penne un po' più piccole altri preferiscono penne più importanti però ognuno poi fa le le scelte che preferisce io ve l'ho fatta vedere e spero che questa recensione vi possa essere d'aiuto nell'acquisto di una penna come possa essere questa Ginao o altri vi ringrazio per aver guardato il video e vi do appuntamento ai prossimi giorni per nuove recensioni e nuovi video grazie e a presto allora ragazzi eccoci qua siamo arrivati allo scimmiometro però prima dello scimmiometro io ho dovuto fare lo scarabocchiometro che vuol dire è un po' un po' di tratti diversi strani no? per vedere come va la cosa che ho diciamo evidenziato che all'inizio una volta le stilografiche cinesi provenienti dalla Cina prima di essere utilizzate venivano lavate poi siccome il loro diciamo il loro modo di costruire è migliorato e forse qualcuno di noi ha perso questa abitudine io per primo per cui più che false ripartenze o salti di tratto io chiamerei incertezze io con questa stilografia che ho avuto arrivata caricata senza lavarla ho avuto all'inizio delle incertezze ma questo succede anche con le stilografiche occidentali o giapponesi o di maggior prestigio cioè spesso ad alcuni modelli bisogna dargli il tempo affinché l'inchiostro si è assorbito completamente dal conduttore e si raggiunga quel tipo di qualità di scrittura che noi desideriamo al meglio allora se premo non ho sicuramente all'inizio se premo all'inizio non ho sicuramente false ripartenze ma qualche incertezza durante durante la corsa potrei averla potrei averla ora io non so ancora se dipende guardate qua per esempio dal mio modo di scrivere dal tipo di inchiosso sicuramente ve l'ho accennato sto usando un KWZ e potrebbe darmi qualche situazione anche il tipo di carta se sto su una carta un po' più questa è una carta molto lucida patinata però io tendo magari ecco per avere incertezze eliminare l'incertezza in genere nel campo stilografico come anche nel campo medico si va per tentativi quindi la prima cosa da fare provare a lavarla la seconda perché magari ci sono dei residui di produzione degli oli delle cere cose un po' particolari sul pennino ancora non è stato carburato cambiare l'inchiostro evitare sempre di utilizzare sempre questi inchiostri più economici ma andare anche su qualcosa io dovrei provare quello di di Maurizio il Sailor che mi ha dato ottimi risultati senza andare su sulla Sakao di Yoshi su la Sakao che magari veramente quello è una botta dice perché perché guardate guardate qui che tantuffo che c'ha c'ha una bomba praticamente un mese di scrittura ecco tentativi dopo di che le stilografiche si aspetta un mese e fra un mese ci si ritorna e si vede come va e si ricontinua a scrivere però insomma dai a parte queste sciocchezze che poi sciocchezze non sono perché poi sono quelle cose che ci insegnano sulla nostra pelle piccole piccole questo anche per la scrittura reversa la scrittura reversa all'inizio non è gradevole non solo per questo tipo di modello ma in genere ma può essere che dopo qualche ora ma io direi pure qualche giorno la cosa diciamo migliora e così anche per la scrittura normale insomma va bene va bene ce lo direi tu e infatti adesso andiamo a vedere lo scimmiometro cosa cosa ne esce allora eccolo qua scimmiometro sapete che abbiamo un giudizio da 0 a 4 da pienamente soddisfatto a non soddisfatto con alcuni parametri di riferimento ormai sappiamo di che cosa si tratta un grado di soddisfazione allora vediamo C Mao 9-0 9-10 siamo su un tipo di carta da DAO il nib il pennino abbiamo un fine io ho dei vedete delle incertezze dovute ecco le segnalo però vediamo anche i reverse i reverse premendo va però insomma va bene quello che avevo anticipato è giusto quindi probabilmente perderà qualcosa esclusivamente perché il mio tipo di esemplare probabilmente ancora non è non è carburato dovrei aspettare qualche giorno e magari fra qualche tempo rifarla questo tipo di di esperienza però siccome poi lo facciamo un po' con tutte le penne dai così almeno avete un'idea ora fusto e finiture robustezza spessore materiale sezione allora sicuramente è una stilografica tozza non tanto per la lunghezza perché se la parrughiamo per esempio a una pilot che imita perché non imita questo modello imita quello da da veramente poi vediamo quanto costa l'anamiki impero è la copia esatta dell'anamiki impero fatta in una lacca giapponese riusci la lavorazione ma chi quello che ti pare però tanto per dire però chiaramente eccola guardate quest'altra una parpera è proprio perché piccolina questa una parker già insomma ci siamo quindi non è tanto la lunghezza che comunque c'è è la sua consistenza ma anche per esempio paragonata a una waterman caren eccola qui è identica come lunghezza ma in quanto a diametro è spaventevole quindi è veramente molto molto tozza la vedete la vedete insomma guardate ecco la metto queste due magari sono nere così riusciate a capire di che si tratta non è tanto la la lunghezza del fusto ma proprio il diametro che rimane comunque grande rimane grande e se poi si va a vedere ecco tutte penne che possono tranquillamente essere usate anche senza senza innestare il cappuccio questo inchiostro che sto usando il KVZ WZ mi impiastra le mani mi ha dato dei problemi io non so se è la stilografica in questo momento ecco sono tutte cose che io dovrei valutare allora fusto finiture allora è una stilografica che non si adatta a mani piccole a mani femminili perché è veramente non so io ve la faccio non vedere ancora ma è tozza quindi voi state scrivendo con consigliaro cioè vabbè allora e no e lo dovete sapere se vi piace sicuramente va bene io direi mediamente soddisfatto ma anche soddisfatto perché se la comprate vuol dire che vi piacciono questo questo tipo di pennone è perché state scrivendo con un sigaro cosa che ho trovato anche con la curitas un sigaro quindi io direi due tre nel senso che ecco qui pure va perché ci ripassate chiaramente va però insomma ve l'ho accennato ma è solo sicuramente dovuto al fatto che non l'ho lavata questa sicuramente lavata e cambiando l'inchiostro e aspettare qualche giorno la situazione dovrebbe andare pennino e conduttore elasticità flessibilità flusso materiale del pennino per fortuna è un pennino di nuova generazione un pennino ottimo scorrevole rigido come lo deve essere tutte le penne che nascono per non essere calligrafiche ma per essere diciamo per una scrittura normale io anche questa la porto a due tre anche qui è mancato il tratto e vabbè allora sensazione di scrittura sensazione di scrittura sensazione di scrittura devo dire che risente in una carta in una carta bisogna premere in questo primo momento all'inizio devi un po' premere poi quando l'inchiostro ha fluido vai tranquillamente quindi una sensazione di scrittura ancora adesso mediamente è soddisfatto siamo su due tre è tutto guardate i due vi rilascio stavolta per non stare bilanciamente è idem nel senso stiamo premoforte proprio per non avere io sono convinto a lungo andare a lungo andare questa stilografica possa essere non possa essere adatta per lunghe sezioni di scrittura però è molto divertente usarla perché è veramente divertente in tutti i livelli sto usando i reverse per provarla i reverse che su carta patinata sicuramente soffre di meno vediamo a leggere se no ti piacerebbe di fare dire è una penna eccezionale però questa secondo me dice ricca ce l'hai detto dieci volte eh lo so lo so originalità originalità mi è da sorridere perché è la copia della amiche impero che originalità può avere però tra parentesi una forma stica arcinota era poco originale però originale anche qui a questo prezzo è originale è sicuramente originale quindi da due a tre io secondo me vado vado tutto su due e tre presentazione ed estetica della penna confezione oddio la confezione guardate è arrivata in una nuova confezione bella bella non è il solito metallo ma è la plastica straordinaria si sono inventati si sono inventati anche il pennino il convertitore mega convertitore che è un è veramente si sono inventati questo fatto del pennino 8 un mega pennino per darvi un'idea del pennino 6 ecco guardate la differenza fra un pennino 6 e un pennino 8 tra parentesi questa è una pilot quindi sicuramente vedete vedete sarà la stilo sarà l'inchiostro quindi soddisfatta per la confezione per la cosa però rimane una copia una copia con tutti anche qui ancora una volta stesso problema allora reperibilità assistenza devo essere sincero è arrivata mi hanno scritto l'ho presa su ebay che hanno distributore non dalla ginao sono stati compiti pronti all'assistenza quindi al cambio più che l'assistenza al cambio ti rimborsiano quindi io ti resto punto sì dai premo un po' di più la faccio venire rapporto qualità prezzo 4 pienamente soddisfatto perché i prezzi una penna l'originale lasciamo perdere che c'ha il pennino in oro il fusto in ebanite quello che ti pare la lavorazione io parlo di questo e questo sono pienamente soddisfatto insomma aliexpress ebay amazon ce l'hanno tutte con 12 euro e te ne porti via serenamente anche meno non è quello il problema allora che dite suona sto scimmiometro andiamo a valutare perché faremo un doppio confronto 2 4 6 8 10 12 15 19 e quindi sarebbe ben lontano dal a 24 sapete che suona lo scimmiometro 3 6 9 12 15 18 21 e 4 25 e potrebbe funzionare allora tutto è rimandato alla proscenna perché 19 25 sta tra un range di 19 25 quindi non suona lo scimmiometro se 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 valutiamo sti salti di tratto queste cose sono convinto c'è una buona possibilità e cambiando il l'inchiostro e cambiando soprattutto dopo un buon lavaggio dandogli il tempo di carburare sono sicuro che che potrebbe potrebbe migliorare ma veramente di tanto e avere l'ottimo al momento a me è così questo sarà stato sfortunato un po' precioloso tenete conto anche però delle impressioni di scrittura che mi hanno preceduto e soprattutto tenete anche conto del fatto di altri di quegli stranieri Vittorio l'italo-americano che ha detto questa è la penna migliore la sorpresa del 2023 quindi insomma sono tutte cose non mi state dando retta a Riccardo e poi comunque ci diamo appuntamento cioè vabbè ma Riccardo insomma la compro o non la compro guarda in questo momento direi aspetta un attimo se vediamo se è un problema mio o no magari di questo pennino perché vedo proprio che su sta carta poi non è che c'è una resa splendida c'ha veramente dei particolari però ripeto potrebbe e vabbè qui che consiglio ci dai o aspettate un attimo se proprio volete essere sicuri aspettate ancora qualche qualche settimana oppure comprate perché il prezzo 12 euro non è è comunque un divertimento poi se ci sono problemi è come posso dire l'esperienza giusta per domarla perché le stilografiche non le abbandonate subito a non scrive a scrive male a non va bene provate pure a tentare cose a domare il cavallo che alla prima volta che lo montate vi butterà giù scalcerà poi dopo dopo un periodo di tempo di addomesticamento il cavallo sarà il miglior il miglior amico con cui fare le vostre passeggiate e in questo periodo di caldo approfittate ma che stai a fare lo sponsor c'ho lo sponsor i sorbetti di Elan Lemon Frizz un'acqua profumata direi quindi la spruzzate e se volete sapere di limone come sapete si avere se tu si compra in farmacia costa tanto 12-14 euro una vera coccola per la pelle dall'azione idratante grazie alla presenza in formula degli zuccheri essenziali estratti di lime e zenzero tonificante migliore alleato contro stanchezza io devo dire non è un profumo anche se è un'acqua profumata però accidenti se avete la pelle giusta e dice si perché spesso il collegamento c'è la vostra pelle saprà di limone e dice ma per davvero eee ve lo dirò fra qualche tempo però vi da in questo periodo di caldo vi da un sollievo no sentite proprio l'odore del limone sulla vostra pelle perché non ti conoscevamo come e manco io devo essere sincero me la sono ritrovata lì vabbè tutte scuse insomma sta penna è sta penna vedete vedete deve trovare se premo se premo allora se premo scrive benissimo però devo un po' premere però anche il tratto poi diventa io siccome scrivo poi una volta che ha preso non c'è più problema più o meno più o meno dai andiamo a provare un altro inchiostro la vatera dai sì sì ci metto il cellulo di maulizio vedete che scriverà meravigliosamente allora per il momento è tutto un abbraccio la prossima magnifico un'ora di parlarvi della Ginao allora salve ragazzuoli ripeto ben ritrovati di cosa parliamo abbiamo qui una splendida Ginao X 159 Meisterstuck come presumo sappiate già tutti la Ginao sembra aver fatto un passo notevole verso vette di qualità costruttive entusiasmanti trattandosi della Cina trattandosi di un marchio cinese e dopo una stagione dedicata al chip all'economico più estremo alla produzione più frettolosa e superficiale se ne è uscita qualche tempo fa con questa appunto Ginao X 159 questa sarebbe l'evoluzione di una penna precedente la Ginao 159 appunto che era completamente in metallo pesantissima aveva forme meno eleganti di questa con quella specie di standard di sulla clip che era inguardabile quindi Ginao ha riproposto quel modello in questa X 159 modificandone le linee ovviamente modificando i materiali perché questa è completamente in plastica il che la fa acquistare la fa acquisire una caratteristica non trascurabile ossia la leggerezza perché vi assicuro che il modello precedente di cui adesso io qui non ho un esponente era veramente pesantissimo e non si poteva usare o quantomeno non si poteva usare per lunghe sessioni di scrittura a meno che non si puntava ad avere una muscolatura del braccio destro esagerata quindi Ginao ha proposto lo stesso modello in questa rifinendone le forme il design che risulta quindi più elegante i materiali e soprattutto proponendo per la prima volta credo non solo presso Ginao ma anche la Cina in generale proponendo un meraviglioso pennino di misura 8 che è parecchio più grande dei pennini di misura 6 per esempio questo guardate che differenza e quindi si Ginao sembra aver fatto un sembra aver intrapreso un percorso di crescita di maturazione e di serietà produttiva per cui dopo questo modello se ne è uscita con un modello ulteriore anzi con un modello originale ulteriore perché questo non mi pare sia l'evoluzione di una penna precedente Ginao e sto parlando della 9019 da Dao Ginao 9019 da Dao o da Dao di cosa si tratta si tratta di una penna di grandezze notevoli possiamo fare un confronto per esempio con una penna europea occidentale italiana e guardate qua a lunghezza siamo più o meno anzi no siamo praticamente allo stesso livello ma la Da Dao risulta oltre modo più spessa più larga e il che le dà un aspetto di imponenza rispetto ad altre penne anche rispetto alla stessa X159 guardate quanto è più spessa anche la Da Dao però ricicla l'idea del pennino numero 8 e quindi si propone come per la X159 con lo stesso pennino in questo caso abbiamo un bicolore abbiamo un bicolore vedete beh abbiamo finito alla prossima no è che abbiamo finito abbiamo cominciato allora come dicevo questo sarebbe un modello originale della Ginao quantomeno così mi risulta non è l'evoluzione di una penna precedente forse credo credo ci sia una Ginao con queste forme massicce e arrotondate però in resina vabbè se trovo se trovo immagini online le metterò in in sovraimpressione al video morti dicono che Ginao con questa con questa 9000 19 abbia voluto imitare la la pilot Namiki Emperor e si diciamo che complessivamente la silhouette è quella la clip è quella e tuttavia vanno fatte le debite le debite virtualizzazioni intanto possiamo dire che la Namiki la Emperor non ha questa fascia su cappuccio non ha la fascia su cappuccio e va detto anche un'altra cosa che può imbarazzare la casa giapponese tipo che la la pilota Namiki Emperor ha una clip che scopiazza forse volutamente forse involontariamente forse non si tratta di scopiazzatura ma di di omaggio di imitazione sentita rispettosa chiamatela come volete fatto sta che la clip dell'Animperor si rifà alla clip di una versione della duo fold degli anni 20 ovviamente del novecento guardate le immagini che ne dite quindi qua si ritorna al solito discorso i cinesi copiano scopiazzano scopiano ma lo fanno anche gli altri eh lo fanno anche gli altri ai cinesi tuttavia va detto che comunque si propongono con penne economiche con con produzioni terra terra e pretendere anche originalità come posso dire pretendere un investimento che a noi ci arriva gratis gratuito un investimento da parte loro in design in ricerca di originalità eh sarebbe troppo no secondo me sarebbe troppo e insomma la coperta è corta da un lato dall'altro bisogna tirarla e bisogna scendere a compromessi accettare o non accettare però non esageriamo con questa con questa diatriba sull'originalità eh perché come si è visto eh lo fanno anche gli altri eh lo fanno anche gli altri questa per esempio cosa vi ricorda dai adesso voglio gli onesti intellettualmente gli intellettuali onesti cosa vi ricorda questa italianissima e stupenda Leonardo Furore hm io non lo dico lascio a voi la risposta allora ritornando a noi ritornando a noi e a queste Dadao eh con la Dadao personalmente direi che Ginao oh 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 yeah e niente è arrivata la mia gatta che c'è allora ritornando a noi ritornando a noi e a queste meravigliose penne e come dicevo riassumendo come dicevo o come non dicevo non ricordo più cos'è che stavo dicendo non ricordo più neanche cosa ho detto già e mi sa che dovrò editare questo video parecchio quindi con questo nuovo modello Ginao fa un ulteriore passo avanti secondo me nella sua serietà produttiva perché secondo me qui siamo ad un passo superiore ora in che misura non saprei dirlo però eh questo nuovo modello eh risulta eh di una qualità superiore appunto alla X159 eh per esempio possiamo appurare la cosa con l'incisione sulla peretta sulla Dadao appare no appare è credo no diciamo che la tecnica è la stessa ci sono queste lettere con segmenti interni paralleli inclinati la stessa cosa avviene sulla sulla X159 ma a parer mio a parer mio sulla sulla Dadao è molto più apprezzabile la cosa forse perché il testo è più grande forse perché questa peretta non è completamente non è completamente cilindrica ma sembra una sezione la sezione di un cono e quindi l'incisione diciamo che ha subito una ha subito una ha seguito una superficie meno regolare vabbè lasciamo stare questi discorsi che neanche io so fare ad ogni modo la la Dadao mini surta superiore benché a sua volta abbia dei difetti questo è in dubbio le penne bene o male hanno tutti tutti difetti e pregi la Dadao non so se l'ho detto già arriva come la X159 con un pennino di misura di misura 8 un gran bel pennino questo in particolare di gradazione F e in base alle mie esperienze devo dire che la immaginavo con i pennini F valla grande valla grande e io consiglio gli F se volete dei tratti che non siano esattamente medi e non siano esattamente extra fini andate su fine capirà la scoperta direte voi allora forse non mi sono spiegato non ho saputo trasmettere quello che intendo dire con le penne occidentali partiamo dalla premessa che le gradazioni sono variabili da penna a penna un F per una penna può essere un medio per un'altra penna come sappiamo tutti non ci sono degli standard internazionali per la misura della larghezza del tratto poi ovviamente c'entra anche il flusso e là se sui tratti possiamo dire che un F equivale a 0,5 un extra fine a 0,3 e via il flusso influisce su questa grandezza del tratto no? quindi come fai a misurare come fai a fissare uno standard sui flussi? è praticamente impossibile perché ogni produttore adotta un alimentatore proprietario e per produttori includo anche Joe Bok cos'è che stavo dicendo? madonna allora cos'è che stavo dicendo? veramente non sono riuscito a ricordare cioè non riesco a ricordare cosa stavo dicendo ma procediamo con l'analisi delle penne va e cercando di essere più sintetici possibili quindi qui abbiamo una penna di grandi dimensioni allora da scarica il peso risulta maggiore della X159 di poco ma comunque si sente questa si sente maggiormente in mano anche da scarica eh la carica ovviamente la carica ovviamente risulta ben più pesante perché a proposito della Dadao vanno considerate altre caratteristiche che la rendono un passo avanti una serietà maggiore rispetto alla strada intrapresa con la X159 perché la Dadao ebbene si la Dadao arriva con un con un signor converter qui come possiamo vedere si tratta di qualcosa di veramente grosso un signor converter che ha anche inciso sulla fascia il nome Ginao un signor converter che fra l'altro credo per la prima volta per una penna cinese si monta a vite pensate un po' pensate un po' guardate qua guardate qua che meraviglia vabbè quindi con la Dadao Ginao e qua siamo veramente su livelli altissimi arriva con un signor converter che devo dire la verità a me ricorda parecchio i converter delle penne delle penne noodles le penne noodles ovviamente hanno dei converter tipo a pistone di siringa si abbassa lo stantuffo e si tira su però la grandezza la capienza mi sembra quella e ovviamente sulla sulla sezione c'è questo questo anello di gomma che rende la vita la chiusura del fusto morbida è una bella sensazione una bella una bella cosina nulla di nulla di estremamente sofisticato però comunque stava pure sulla sulla X manca manca sulla sulla Leonardo a Leonardo e che me stai a combinar ti fai superare dai cinesi dai facciamo un confronto di grandezza anche se abbiamo già visto di come la penna si ha si ha rientri nella nella categoria delle large credo io al momento ho solo queste penne inchiostrate questa essendo scarica sto per pensionarla ed è un perché mi dispiace un po' perché sta penna ce l'ho attiva da quando l'ha presi l'anno scorso e non mi ha mai deluso però visto che adesso devo saggiare devo saggiare la resistenza nel tempo delle Dadao cerco di fare un po' di pulizia qua c'è un'altra penna oddio che schifo era una penna biro era una penna sfera qua abbiamo due due pen da bbs ed ecco qua vogliamo prendere una una riga per vedere quanto e prendiamo la riga ecco la riga misuriamo la misuriamo alla buona questa Dadao a proposito Dadao è il nome di un'arma di un'arma medievale cinese siamo siamo praticamente a 15 centimetri diciamo 14 e quasi 9 14 e 9 quindi penna veramente enorme senza senza chi appuccio 13 e 13 e 1 si 13 e 1 è una bella pennetta una bella grandezza bel peso anche il cappuccio è cazzabile ma non vedete come come sfarfalla un minimo bisogna fare un po' di pressione e non lo so a me la cosa non mi piace granché quando il cappuccio sfarfalla in questo modo vedete cosa significa significa che chi ha progettato la penna non non ha pensato alla stabilità del cappuccio durante la calzatura sul fusto è una mancanza è una mancanza di 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 progettazione secondo me che dire più che dire più ha difetti questa penna eh sì allora il primo difetto è nella clip nel fermaglio questa clip è troppo rigida è troppo rigida e non si può usare qua se provate a infilarla in una camicia questo non va se provate a infilarla nel taschino di una camicia questo non va dovete sollevare un minimo la clip la stessa cosa si dice ovviamente nella compagna nera questa addirittura è anche più rigida non so da cosa dipenda dovrebbe essere lo stesso metallo dovrebbe essere lo stesso metallo però come sappiamo che i cinesi il loro pressapochismo è è un elemento che andrebbe che può essere sviluppato in qualche romanzo di fantascienza qualche romanzo fantastico quindi clip inutilizzabile non si può non si può usare l'altro difetto è la famosa cazzo di canite quella che qualcuno chiamava cazzo di canite quella che qualcuno che è sparito la chiamava cazzo di canite e sperando che qualcuno non se la passi male la cazzo di canite nella ginao da dao consiste nella nella fascia che non è a volte perfettamente centrata sull'asse come vedete qua sulla parte destra anzi no sulla parte sinistra sulla parte sinistra sporge maggiormente rispetto a quella destra allora nella nera aspettiamo prendiamo qualcosa di scuro per fare per usare uno sfondo migliore però qua c'è l'ombra vediamo così è monoso se si vede se si nota vabbè comunque la cazzo di canite c'è c'è la fascia che sporge maggiormente da un lato quindi non è perfettamente centrata sull'asse della penna e vabbè nella nera questo fenomeno è più evidente invece nella nella trasparente è praticamente invisibile ma c'è fidatevi il mio occhio di falco l'ha l'ha inquadrata ma veramente si tratta di una cosa così minima che io ci passerei sopra qui direi che questa penna a parte la clip non ha difetti altri difetti ma altri difetti non mi chiamerei non lo chiamerei proprio difetto il fatto che queste siano plasticacce ecco vedete queste sono penne la plastica la queste sono penne che vengono prodotte con in uno stampo in uno stampo che poi viene aperto e restano le due parti che poi vanno incollate insieme infatti qua c'è la riga dovrebbe notare la riga di non si nota perché è strano allora su questa nera non vedo nessuna riga al contrario invece sulla trasparente ora si è sparita anche sulla trasparente la linea eccola qua eccola qua qua si vede vedete vedete la linea ecco su fusto invece non è presente nessuna linea e penso che qua la stampa avvenga in un modo diverso cioè la 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 forma la questa la plastica viene versata in un in un cilindro con con la forma stampata del insomma ci siamo capiti eh quindi dicevo non so se questo possiamo chiamarlo difetto il fatto che siano delle plasticacce per quello che costano comunque non ci possiamo lamentare anche se io saluterei con entusiasmo l'arrivo di una versione più avanzata con in resina e mi raccomando qua non facciamo confusione tra plastica e resina la resina è a sua volta plastica ma di una qualità migliore superiore oltre al fatto che è più resistente poi le resine cinesi non saranno lucide come quelle di certe penne occidentali ma sono belle eh guardate qua guardate che meraviglia anche se io credo che queste resine vengano da un produttore occidentale una volta ho letto che c'è un produttore di resine occidentale che in cina vende a molto meno i suoi prodotti e da questo dipende il fatto che alcune penne cinesi costano pochissimo pur essendo in resina poi vabbè bisogna considerare anche bisogna anche considerare che i prezzi in occidente sono gonfiati oltremodo dal marchio dalle tasse è un discorso complesso che forse qualcuno potrebbe fare in modo più in modo migliore di come potrei fare io perché non sono addentro a queste faccende allora vogliamo vedere come si comportano queste pennette ho dimenticato di dire che la nera monta in verità monta al contrario della trasparente un pennino extra fine eh sì vediamo come si comportano queste pennette le pene sono già cariche le ho caricate con Aurora Borealis di Amine questo è in assoluto uno dei miei colori preferiti anzi guardate un po' questo questo mi sa che tra poco mi devo rifornire quindi le due Ginao da Dao le ho caricate con Aurora Borealis della Diamine vediamo come si comportano su carta Rodia usiamo prima questa trasparente con pennino F questo è uno dei migliori pennini che mi siano mai capitati ve lo assicuro è persino superiore all'altro F della della X 159 perché dico che è superiore beh sto pennino vola sulla carta oltre al fatto che ha un flusso vedete un po' vedete che bel flusso e vabbè il flusso non dipende dal pennino però aiuta quindi sto pennino vola sulla carta non ha grattamenti non ha feedback cioè attrito alla continuità vabbè i pennini sono rigidi lasciamo stare il test sulla flessibilità sulla morbidezza sì qua sembra che ci sia qualcosa ma dipende dipende dal fatto che si calca troppo sulla sulla carta vabbè il pennino anche i rebi si allargano un po' un minimo quindi quindi pennino rigido rigido ma non chiodo vabbè che ce ne facciamo dei pennini fessibili non siamo mica maestri calligrafi come come il maestro Casciato del canale di di Riccardo Affinati che più vabbè scrittura reversa scrittura rovesciata produce un super extra fine la scrittura rovesciata è fattibile ma il pennino ha un feedback aggressivo diciamo che si può fare in momenti di estrema necessità e consiglio lo consiglio fare solo quando è necessario allora sto pennino è favoloso io vi assicuro che sto pennino è favoloso ricollegandoci al discorso sul pezzo a pochismo cinese di poc'anzi eh sì bisogna acquistare vari e ginao per beccare il pennino favoloso passiamo a da da dao pennino extra fine anche questa bella carica vediamo sto pennino extra fine come vedete qua il tratto è veramente fine a proposito ho concluso il discorso prima su sui tratti non ricordo sì davo il consiglio di puntare a pennino F se si acquistano a ginao perché è perfettamente equilibrato tra M ed extra fine perché lo dicevo perché con i pennini F della ginao in primis se si vuole un pennino che scorre si deve puntare a quello il pennino extra fine infatti qui si avverte un attrito maggiore anzi no si avverte un attrito che è maggiore maggiore rispetto a cosa qui c'è l'attrito qui il feedback il feedback con la K o con la H qua si sente ma comunque diciamo che è una cosa accettabile poi altra cosa perché il pennino extra fine della ginao io lo consiglio con parecchia reticenza con parecchia reticenza perché oltre al fatto che solitamente presenta attrito ha questo problema in base alle mie esperienze i pennini extra fine ginao mostrano una secchezza che non non mi piace granché ora magari su questa carta non si vede e magari dalla prova strisciata la prova strisciata apparentemente può contraddire quanto sto dicendo ma sto pennino quando si scrive in fase di scrittura non appare proprio bagnatissimo e quindi non so magari qua sono gusti personali quindi questo è un buon pennino se l'attrito seppur modesto può rientrare nei gusti di qualche utente buon pennino ma io consiglio di puntare all'f e l'f è qualcosa di di veramente valido guardate che bel fosso guardate che bel colore guardate che bel colore che bel colore carico dell'inchiostro e insomma raga ah raga che vedevo di a me sto pennino mi fa mi fa letteralmente mi fa letteralmente oddio letteralmente cosa è un piacere usarlo è veramente un piacere e quindi direi che ho finito su carte di qualità inferiore vogliamo vedere come si comporta allora qui abbiamo fogli tagliati nel formato A4 della Favini carta da fotocopia in pratica una buona carta se si scrive su una sola facciata usando le stilografiche vediamo come si comportano ste pennette va quindi questa è Ginao 9019 da DAO ecco qua qua mi sembra che il tratto sia leggermente più più largo vedete vedete come attraversa sta carta non è indicata per le stilografie infatti la uso solo per prendere appunti scriviamo una frase storica scriviamo una massima latina allora cogito ergo ergo sum scapolo una massima latina la conosciamo tutti era così sì era così ma la ricordo così almeno vediamo il pennino extra fine il pennino extra fine scrive c'è no carpe diem trote gnamma bellissima scrittura carpe diem vabbè comunque il pennino extra fine scrive c'è questa secchezza che non mi piace granché secchezza che secondo me può dipendere da una da una fin troppo fin troppo serrata da uno spazio fin troppo serrato tra i rugby devo fare fare qualche prova con un foglio di alluminio devo cercare di distanziarli un po' ma comunque dai si può usare è un buon tratto allora concludiamo questo questo video e come lo concludiamo lo concludiamo in modo con un voto positivissimo su queste pennette secondo me meritano poi ovviamente va tenuto in considerazione il pesapoghismo cinese per Kugi diciamo che sono alte le probabilità che acquistando una sola penna ti capiti una penna non perfettamente una penna dalle prestazioni non perfettamente come ci si aspetta e io ne ho prese due e per fortuna mi sono capitati dei buoni pennini anche se l'F non mi entusiasma granché e non lo so vedete voi altra cosa queste penne arrivano aspetta ci stava dormendo la mia gatta sopra ste penne arrivano dalla Cina in questi incartamenti in questi incartamenti barbosi ci allegano questi due astucci cioè ci allegano un astuccio per pena qua questi sono questi si separano vedete si separano con con facilità vabbè ste cosine qua si diciamo che sono a misura di penna va ad ogni modo pagando un pochettino di più è possibile ricevere le penne con delle scatole che sono anche bellocce le scatole tra l'altro sono corredate da sono corredate da foglietti illustrativi i quali concorrono a dare l'idea che la Ginao sia tutt'altro che un marchio di di penne di penne da da un tot dal grammo cioè di penne economiche di penne di penne volgari di penne da bancone non so se è chiaro vabbè quindi comprate e provate casomai la vendete ci vediamo regà ciao oggi parliamo della Ginao 9019 tanto parlare di questa penna stilografica c'è stata tanta attesa e tanti youtubers che non vedono l'ora di mostrarne le caratteristiche in una loro video recensione potevo esimermi ma no dai sono curioso per natura e ovviamente volevo provarla anche io nel seguito la mia prova e le mie impressioni il confronto naturale per molti appassionati di stilografiche cinesi è con la Ginao X 159 vuoi perché il marchio è lo stesso e le dimensioni importanti ma mentre la X 159 si ispira alla Montblanc 149 in questo caso Ginao alza ancora il tiro e con questo modello si va ad ispirare almeno esteticamente alla Urush Emperor penna ammiraglia della prestigiosa produzione Pilot Namiki ovviamente qui non abbiamo le pregiate lacche artigianali con tecniche tradizionali che richiedono mesi di lavoro per essere realizzate non c'è un pennino in oro 18 carati né le avanzate soluzioni per il controllo del flusso dell'inchiostro l'imitazione è insomma solo estetica ad ogni modo si tratta di una penna importante alla vista che si fa notare per le sue dimensioni generose e per il suo pennino in misura 8 molto grande rispetto alla media elemento forse davvero distintivo è il nuovissimo converter di buona qualità con attacco a vite a diverse parti metalliche e una capacità di inchiostro ragguardevole quindi più che doppia rispetto ad una tradizionale cartuccia o converter standard ma vediamo ora alcune sue misure ho preparato in proposito una scheda vediamo che la lunghezza da chiusa è di 14,8 cm da aperta 13 cm e con il cappuccio calzato diventa abbastanza enorme arrivando a 17 cm questa è la penna con il cappuccio calzato il diametro massimo della parte diciamo del cappuccio qui nella parte più larga del cappuccio è di 1,9 cm ma se consideriamo anche la clip qui nella parte più larga dove c'è questa sferetta è di 2,4 cm il diametro massimo del fusto è invece di 1,6 cm parliamo del peso perché il peso è comunque abbastanza notevole in totale con l'inchiostro è di 34 grammi il totale fusto e converter pieno anche in questo caso l'inchiostro ma soltanto la parte del fusto quindi senza il cappuccio è 22 grammi perché la differenza 34-22 è 12 grammi che infatti è esattamente il peso del cappuccio è questo 12 grammi il converter poi ne parleremo più in dettaglio e più avanti in questo video da vuoto pesa ha un'oscillazione del peso tra 4,9 e 5 grammi e pieno 6,6 grammi ha una capacità tra 1,6 e 1,7 millilitri quindi abbastanza elevata ora vediamo più in dettaglio il confronto con la 159 che pesa un peso totale senza inchiostro 26 grammi quindi è decisamente più leggera rispetto alla 90-19 sempre qui della Genao il solo fusto pesa 16,8 grammi invece qui è 22 però qui stiamo parlando con l'inchiostro ma non è i 2 grammi di inchiostro scarsi che fanno una differenza che proprio è una penna più grande e più pesante il diametro del fusto è di 1,5 cm in questo caso e il diametro del cappuccio 1,7 cm quindi questa qui sebbene come lunghezza più o meno si equivalga risulta essere la 90-19 un pochino più spessa e abbastanza più pesante ma parliamo del prezzo dove la si può acquistare il prezzo sarà disponibile anche su altre piattaforme magari su Amazon eventualmente pubblicherò un link attualmente l'ho presa su Aliexpress a un prezzo che va dai 7-8 euro circa però con la spedizione diciamo quella si va a pagare 13-14 euro nel mio caso è arrivata con una semplicissima come vedete qui confezioncina in plastica la penna era qua dentro e mi hanno dato anche questo poch come vorremmo chiamarlo insomma questa piccola custodia in materiale vellutato comunque sempre anche in questo caso è sintetico vediamo un po' visto che abbiamo parlato di misure un po' la descrizione come lunghezza rispetto ad altre penne questa è la 90-19 questa qua è la Lami Safari la Alt-Star è la versione in alluminio questa come abbiamo detto è la 159 e ovviamente come dimensioni più o meno dette esteticamente si equivalgono la Alt-Star è un po' più piccola un po' più corta però se andiamo a estrarre il cappuccio e qui andiamo a svitare la 90-19 vediamo che la 90-19 è più o meno insomma come lunghezza è uguale per quanto riguarda fusto e pennino ora andiamo a richiuderla e descriviamo la penna più in dettaglio è ovviamente per gran parte in plastica una plastica stampata semplice ma ben rifinita non ci sono parti diciamo rimanenze e residui di lavorazione devo dire che è stata fatta abbastanza bene in questo caso è trasparente semitrasparente sono disponibili attualmente queste penne in tre colori se non erro trasparenti o semitrasparenti e due colori opachi una rossa e una nera qui vediamo in particolare la scritta verticale sulla clip Ginao in puro stile Namiki questa è la clip che è fin troppo rigida sinceramente io ho paura che forzandola si potrebbe andare a creare qualche crepa la plastica nella parte qui sommitale in punta non so se si riesce a vedere o nella parte in fondo ha delle alette di rinforzo quindi insomma è davvero ben realizzata comunque questa clip come ho detto non consiglio di usarla su tessuti troppo spessi perché potrebbe effettivamente creare delle andare a formare poi delle crepe qui sulla plastica non la consiglio è veramente troppo rigida incisione sulla veretta possiamo vedere la veretta Ginao Dadao non so cosa significa qualcuno dice che si rifà ad una particolare spada insomma un'arma cinese numero 9019 questo è il il codice del modello il cappuccio si apre circa con due giri e un quarto ho misurato ho fatto varie prove in due giri e un quarto esce fuori il cappuccio le filettature sono ben realizzate in questo caso è plastica su plastica qui all'interno del cappuccio anche plastica qui abbiamo invece la filettatura del fusto questa parte risulta essere plastica e questa parte invece è metallica qualcuno sostiene che questa soluzione a lungo andare potrebbe andare a creare delle crepe sulla plastica comunque per il momento insomma non ho mai avvertito una cosa del genere e anche altre persone è più una preoccupazione teorica bisognerà vedere poi nel tempo come come resiste le filettature in questo caso c'è un o-ring qui e c'è un altro o-ring nel pennino nella parte del blocco del pennino a proposito del pennino abbiamo detto che questo è una misura 8 e si può cambiare facilmente qui prendiamo magari qui non la faccio perché è inchiostrato però con questa 159 esempio della Ginao si vede sostanzialmente lo stesso pennino cambia il colore questo è dorato questo qui invece è argentato però si può andare veramente a svitare tutto il blocco qui dell'alimentatore e il pennino e possiamo andarlo anche facilmente a sostituire credo che non so se lo abbiano già fatto ma ovviamente come ha fatto Ginao anche per i suoi precedenti modelli metterà a disposizione dei pennini di scorta e di pennini per chi vuole cambiare magari a provare la penna con una misura diversa rispetto al pennino con cui è stata acquistata parliamo in dettaglio del converter il converter è veramente diciamo importante ha una dimensione sicuramente maggiore ecco io ora qua spero di non fare un disastro con l'inchiostro perché comunque c'è l'inchiostro all'interno e con l'attacco a vite si deve quindi svitare per estrarlo questo è il suo converter decisamente generoso mettiamolo anche a confronto con un classico vecchio converter della Ginao questo qui è il converter Ginao normale questa qui è una cartuccia la capacità di inchiostro è di 1,6 1,7 millilitri come ho già detto giusto per fare un confronto qui sotto nel box informazioni del video vi metto il link per una pagina wiki curata da fountain pen portale di appassionati di penne stilografiche ebbene considerando la reale capacità del serbatoio questo converter ha una capacità superiore persino a molte penne con caricamento a pistone stantuffo come ho detto vi metto il link qui sotto questo è il converter questa è la parte della filettatura e queste parti sono in metallo dorato che peraltro vanno anche a richiamare il colore del pennino l'attacco è di tipo standard poi magari vi metto delle foto qui andiamo ad avvitarlo funziona anche con cartucce normali e i converter della Ginao ma ovviamente non c'è nessuna ragione per usarli perché effettivamente avendo a disposizione un converter così grande con una tale riserva di inchiostro non ho davvero ragione di utilizzare altri strumenti vediamo un po' una prova di scrittura qui è stata aperta già da un po' prendiamo il retro di questo foglio e una cartarodia allora abbiamo detto questa è la Ginao ecco è stata aperta un po' troppo Ginao 90 19 il pennino è assolutamente scorrevole devo dire che va va bene in tutte le direzioni non ci sono problemi in tal senso il flusso è continuo vediamo un po' che flusso ha devo dire che è adeguato non eccessivo non elevatissimo però sicuramente è un flusso adeguato alla tipologia di penne questa qua ha un pennino F questa è una carta pregiata è una rodia l'inchiostro è un diamine Oxford blue l'inchiostro che utilizzo su moltissime penne mi fa un po' da punto di riferimento andiamo a scrivere anche qui abbiamo detto Ginao 90 19 quindi il tratto un pochino si allarga perché ho sollevato io un po' troppo a volte mi fido e vado a sollevare veramente a fargli sfiorare la carta però devo dire che effettivamente si comporta bene ha un buon flusso ottima ottima davvero l'unica cosa forse l'unica appunto è che il tratto è un pochino più più largo di come l'avrei aspettato essendo un fine un fine forse l'avrei preferito che fosse leggermente leggermente più fine invece qui assomiglia quasi a un medio specialmente se lo si va ad utilizzare su carta comune pennino abbiamo detto questo è un F sì pennino nib F bella bella penna scorre bene devo dire che funziona davvero davvero bene in conclusione cosa possiamo dire beh sicuramente è una penna interessante c'è stata davvero tanta attesa per la sua uscita tante persone che l'hanno voluta provare e che provandola effettivamente la stanno apprezzando è fatta davvero bene scrive bene questa è la cosa più importante perché è un pennino che davvero funziona in maniera egregia scorrevolissimo non ci sono problemi di flusso d'inchiostro soprattutto il converter che è straordinario questo converter che porta 1.6 millilitri d'inchiostro è una capacità ragguardevole comunque funziona anche con cartucce standard quindi nell'eventualità uno dovesse finire l'inchiostro se ne può portare una scorta dietro l'attacco genao non è esattamente standard al 100% però visto che cartucce normali comunque vi entrano e funzionano bene ci sarebbe il rischio che possano spaccarsi sul colletto sulla parte dell'attacco però comunque ecco con invece i prodotti della genao come questo converter funziona benissimo è sicuramente da prendere in considerazione da chi vuole una penna entry level dal basso costo ma con dimensioni ragguardevoli bene io con questo video spero di aver fatto una cosa gradita spero soprattutto che possa risultare utile a questo punto vi ricordo che se volete potete mettere un mi piace al video e magari anche iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite un grande saluto a tutti voi ciao a presto e adesso siccome abbiamo parlato della genao 9019 è bene però anche andare a vedere questa stilografica a cosa si è ispirata allora signori miei iniziamo con la Namiki Imperior Urushi una penna stilografica laccata che porta al presente la grande penna con un pennino numero 50 dei primi anni 30 appunto soprannominata The Number 50 Jumbo insomma la profonda bellezza e lucentezza dell'amperero Urushi nera viene ottenuta utilizzando il metodo Roiro-Rushi Chege un procedimento complesso che consiste nello sfregare ripetutamente un pezzo di lacca grezza per poi lucitare il tutto con un carbone speciale ogni penna richiede mesi per essere creata il sistema di ricarica del dropper permette di riempire l'inchiostro direttamente all'interno del fusto che vista le sue dimensioni ha una grande capacità di ricarica dispone inoltre di una funzione di arresto dell'inchiostro uguale a quella dell'originale possiamo dire che la penna stilografica Namik Imperor Urushi nera viene fornita in una scatola di legno o una bottiglia di inchiostro signori che dire è una penna è una penna originale è una penna particolare è sicuramente è una penna dei nostri soldi a del quanti ho anche le 流 ounded neu